A testa alta, nonostante il virus che ha dimezzato la squadra, va a vincere a Civitanova, chiudendo così il discorso con la squadra campione d'Italia. È regina della prima parte della stagione, un leader assoluto, il Fredo Leon, giocate da fuori classe. Una Perugia che fa il primo passo importante. Esatto, sì, credo che sia stata una bella prestazione di tutte e due squadre. Veramente abbiamo visto del set, insomma tutto fino alla fine, e sono molto contento di arrivare a casa della Lue e fare una partita così. Vincere e prendere questi tre punti che sono molto importanti per la squadra, nonostante che abbiamo avuto della situazione con giocatore che purtroppo non si sono di qua, questa è una partita dedicata a loro, abbiamo saputo che hanno guardato la partita e questa è la roba più importante. Una vittoria, abbiamo detto, importantissima. Potevate anche chiudere la 3-0 questa partita? Potrebbe finire 3-0, ma come tutti sappiamo la Palavola è così bella, che nel momento che tu calla un piccolo secondo le squadre forti così come la Lue prendono questo momento e si fanno vincere per la parte di loro. La squadra è stata molto concentrata fino alla fine, abbiamo riaggiuto e combattuto per vincere finalmente 3-1. Cosa vuole Vilfredo Leon da questa stagione? Voglio tutti quelli trofei che ci sono, sono molto ambizioso, lo so, ma ho dentro questa fiducia da me che se sarà una stazione bellissima da guardare in tv anche in Palazzetto.